Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Parliamo del campionato di Serie D, si è giocata la venticinquesima giornata. I risultati. Ami Ternina-San Benedettese 1-2, rinviata Campobasso-Matelica-Celano-Fano 1-1, Civitanovese-Giulianova 1-2, Fermana-Maceratese 0-1, Iesina-Castelfidardo 1-3, San Nicolò-Chieti 1-1, Termoli-Agnonese 2-1, Pesaro-Recanatese 2-0. In testa sempre più solo alla Maceratese a quota 59, Fano 51, San Benedettese 48, Campobasso 43, Matelica-Civitanovese 40, Chieti 38, San Nicolò 34, Iesina-Giulianova e Fermana 33, Recanatese 29, Castelfidardo 25, Ami Ternina 23, Olimpia-Agnonese 22, Termoli 20, Pesaro 19, Celano 15. Al Cannarsa il derby tra Termoli e Olimpia-Agnonese è andato ai giallorossi per 2-1. Ed è il Termoli il derby del campionato nazionale di lettanti, quello tutto molisano, quello che si gioca in una splendida giornata di sole davanti ad un buon pubblico, arrivano anche dal centro alto molisano in basso molise e i due pubblici si stringono con affetto intorno alle due squadre, alla fine la spunta la squadra di casa, il Termoli che bissa, il successo dell'andata quando vinse per 1-0 sul rettangolo della compagine alto-Matesina, pronti via nell'Olimpia-Agnonese, in porta c'è il confermatissimo Vescio, Biasella va in tribuna, subito Termoli dopo pochi istanti con la conclusione di Di Matera, con la punta delle dita, Vescio è superlativo, va a deviare la sfera in calcio d'angolo, la risposta della formazione alto molisana con Ibe che imposta il suo sinistro con la palla che Marco Nato lascia sfilare sul fondo con un nulla di fatto, cresce il Termoli, 22esimo pallone in area di rigore dove Felici è bravo nello stop, si gira, cerca la conclusione, mette in mezzo un pallone, Di Matera cicca incredibilmente il pallone che poteva scaricare con tutta forza in rete, passa un minuto ancora il Termoli a costruire con Di Matera, parla nella zona nevralgica alla profondità, pallone leggermente ribattuto, ancora Di Matera ci prova dal fondo il suo tiro, questa volta con il destro, con la palla ancora deviata da Vescio, in calcio d'angolo risponde la formazione alto-matesina con Scalbi che sbaglia il rinvio e cede una incredibile palla a Cantoro che prova il sinistro, vola Marco Nato per deviare il pallone in calcio d'angolo, cresce l'agnone, minuto numero 37, Cantoro a rientrare dal limite dell'arri di rigore, si gira ma non inquadra lo specchio della porta con la palla che termina sul fondo, finale del tempo, il Termoli costruisce e lo fa benissimo, Sorianello il cross perfetto, Ragazzo salta bene di testa, non ce la fa nel rimbalzo, Vescio che viene trafitto dal colpo di testa con la punta della nuca di Ragazzo per il Cagliaritano, un altro gol pesante, quello che sblocca la partita e quello che consente alla formazione termolese di trovare il vantaggio, al minuto numero 43 anticipa anche l'Itterio, Ragazzo trafitto, Vescio forse anche dal tocco del suo capitano, con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa, è una buona Olimpia agnonese, quella che scende in campo nel secondo tempo e al nono ricamato si costruisce una buona azione da gol, chiede l'1-2 a Aibe, arriva a Lunetta che delimita l'arri di rigore, scarica il destro direttamente sotto l'incrocio di pari con la palla che termina incredibilmente di nuovo sul rettangolo di gioco, qualche minuto più tardo Ibe termina a terra in aria, c'è simulazione, c'è anche il giallo per il giocatore, ma la simulazione è più che mai chiara, del resto non protestano neanche i giocatori dell'Olimpia agnonese, il termoli però si scuote sulle ali dell'entusiasmo supportato anche dal pubblico, cresce paurosamente sul rettangolo di gioco, minuto numero 16, Camporeale e Di Matera non riescono a girare in porta, un'occasione che aveva costruito alla grande Santoro sull'out di destra, 21esimo da un retropassaggio sbagliato da parte di Natalini, se ne va via Felici che arriva in aria di rigore, è l'occasione giusta però Vescio questa volta è puntualissimo, va a chiudere lo specchio della porta all'attaccante di Colleferro, termoli ancora in avanti, minuto numero 26 con l'occasione per Cremona, sbaglia tutto l'attaccante, Vescio poi esce e fa suo il pallone, il raddoppio però del termoli viene costruito sul calcio di punizione che Romano batte magistralmente, nulla può Vescio sul secondo palo nonostante il volo del portierone dell'Olimpia agnonese, il pallone termina in rete, il gol quello che mette a sicuro il punteggio per la formazione giallorossa, la punizione calibrata a pennello e al centimetro da Romano per il gol, quello della sicurezza per il termoli, quello del 2-0, però l'Olimpia agnonese la fa comunque, continua a fare la partita, la squadra di Donatelli da un cross sbagliato dall'out di destra, Fuschi trafigge incredibilmente Marco Nato per il gol che rimette momentaneamente in cariggiato all'Olimpia agnonese, ma un fuoco di paglia perché il termoli cresce ancora, va vicino al terzo gol con il colpo di testa di Dispoto da poco in campo che schiaccia il pallone che poi termina sul fondo nelle battute finali del confronto, il termoli mantiene tranquillamente la partita ed esce sotto l'abbraccio, quello più bello dei propri sostenitori, vince il termoli, il derby, quello del campionato di serie di Lagnone però esce a testa alta dal Gino Cannarsa. Rinviate tutte le gare nel capoluogo, anche il Campobasso non ha potuto ospitare il Matelica, la gara verrà recuperata mercoledì 18, questa sosta servirà allo staff medico rosso-blu per cercare di recuperare gli infortunati. In serie di Girone F la ventiquattresima giornata ha confermato e rafforzato la leadership della maceratese che grazie a questo gol di Ferri Marini sul filo del fuorigioco espugna il Recchioni di Fermo, vittoria che vale il nuovo a lungo sul Fano. Esiste la forbice di più otto a causa del deludente pareggio fanese maturato a Celano. Gli uomini di Alessandrini sono passati in vantaggio grazie a questo bel gol di Borrelli, vanificato però dal mancino di Piccirillo che segna l'uno a uno. E' un pari che serve a nulla ad entrambe. La San Benedettese riesce in extremis a strappare il successo sul campo della Miternina al termine di una prestazione opaca. Segna su calcio di rigore con grande tranquillità Tozzi-Borsoi, pareggio degli abruzzesi con Valente. A tre minuti dalla fine Pepe a risolvere una mischia in favore dei marchigiani, un successo che tuttavia non riesce a spegnere la contestazione in atto verso la squadra di Paolucci. Tra Campobasso e Matelica c'è la Civitanovese che sta crollando come un castello di sabbia. Crisi senza fine per i marchigiani, aggravata se possibile dalla contestazione verso una presidenza che i tifosi vorrebbero di missionaria. Civitanovese Giulianova è stata una partita per pochi intimi, locali avanti grazie a questo gol di Benzaia. Abruzzesi sul pari grazie a questa rete di Gaetani che è un'attentica prodezza. Rimonte e sorpasso del Giulianova completati già nel primo tempo. La firma del 2-1 è di esposito. Si fa ancora più decisivo ai fini play-off il match tra Campobasso e Matelica con cui i rosso-blu potrebbero davvero lasciarsi alle spalle i marchigiani per consolidare un piazzamento tra le prime cinque. Significativa la vittoria del Castelfidardo, prossimo avversario del Campobasso, sul campo della Iesina. Mentre il Pesaro, in serie positiva da tre partite, stende a domicilio orare canatese. I pesaresi tallonano il Termoli che a sua volta rincorre l'Agnone, avanti soltanto di due lunghezze. A nove partite dalla fine sembra essere proprio la lotta per non retrocedere quella più appassionante stante il solco quasi incolmabile scavato dalla maceratese sul Fano, unica ma anche lontana inseguitrice. Per le formazioni juniores delle tre molisane, sconfitta a fermo per il Campobasso 2-0, KO a Chieti per il Termoli 3-0, rinviata al 18 la trasferta dell'Agnone a Matelica. Intanto domani il settore giovanile dell'Olimpia agnonese sarà impegnato nel secondo stage tecnico organizzato dall'AS Roma. Lo stage è rivolto alla categoria giovanissimi nazionale, anno 2000. Per il club Granata seguiranno l'evento Giuseppe Meoli e Anna Scampamorte. C'è grande soddisfazione per il club del presidente Fernando Sica anche perché è la prima volta che la società Granata partecipa a questo stage con una giovane allenatrice. Nuoto si sono svolti ieri presso il centro M2 di Campo di Pietra e i campionati di nuoto regionali giovanili invernali di categoria Assoluti e Master. Il centro M2 di Campo di Pietra ha ospitato i campionati regionali Assoluti e Master. La prova è stata valida per le qualificazioni dei tempi di partecipazione ai campionati italiani di nuoto Fin. Domenica è importante per gli atleti bianco-celesti. Tra gli esordienti invasca solo le società natatorie del Molise, mentre i Master sono giunti anche da fuori regione. Per la società organizzatrice buoni risultati tra gli esordienti. Al femminile tra i cadetti femminili nei 50 Farfalla secondo posto per Alessandra Martiello con il tempo di 29,9 alle sue spalle con il tempo di 32 sempre per la M2 Giulia Dagnone. Nei 200 d'orso invece sul gradino più alto del podio è salita Daniela Mariello bloccando il cronometro dopo 2 minuti, 19 secondi e 3 centesimi. Argento per Serena Palladino nei 50 Farfalla con il crono di 37,6. Podio tutto M2 nei 100 stile libero. Daniela Mariello 62, Alessandra Martinello 63 e Giulia Dagnone 65 per una gara emozionante decisa all'ultima bracciata. Nella staffetta 4% mista, primo posto per le ragazze dell'M2 con il tempo di 4 minuti 40 e 65. Categoria ragazzi nelle gare in rosa, terzo posto nei 200 d'orso per Federica Passarella con il tempo di 2 minuti 37, argento per Passarella a testa di Ritu e Bibò nella 4%. Tre ragazzi, due le medaglie, 100 stile libero, oro per Samuel Bibò 54 e 4, bronzo per Alessio Di Vico 57 e 1. Nella 4% primo posto per Bibò, Mosca, testa e Di Vico. Per finire tra gli junior maschili nei 100 stile libero ha chiuso al terzo posto Raffaele Sicignano con il crono di 58 e 3. Tra i master, l'M2 sulle 34 gare disputate ha portato a casa ben 30 titoli. Tra questi ricordiamo Fabrizio Cumbolotti ha vinto su 50 Delfino, categoria M40. Nelle gare dei 50 Farfalla, primo posto per Amelia Mascioli, a seguire Amelia e Cristina Damiano, podio tutto M2 per la categoria M35. Nella stessa categoria Irene Di Stefano ha vinto sia 50 rana che 200 d'orso. Podio M2 anche per i 100 stile femmine, M35 con Amelia Damiano e Cristina Damiano Argento. Maria Rita Pasquale, prima nei 100 stile liberi, tra i master 40. Palla a volo di serie B2 per il campionato maschile. Sconfitte entrambe 3-0 le Molisane, l'Agnone con il Tricase e l'Isernia ad Acquariche in provincia di Lecce. Per il campionato femminile, gara interna per l'Isernia che ha ospitato e battuto il Turi 3-0. Campionato d'eccellenza, solo un rinvio per la nona di ritorno. Vairano Santeliana 2-1, Fornelli Venafro 3-4, Gioventuddauna Roseto 2-0, Gambatesa Casalnuovo 2-0, Isernia Gritennina 1-0, Montaquila Matese 4-3, Sesto Campano Riccia 4-0, rinviata Vasto Girardi Rocca Ravindola. Classifica Isernia 63-0, Gioventuddauna 55-0, Venafro 44-0, Vasto Girardi 43-0, Sesto Campano 39-0, Gambatesa 38-0, Matese 37-0, Vairano 36-0, Rocca Ravindola 32-0, Riccia e Montaquila 31-0, Casalnuovo 20-0, Fornelli 18-0, Roseto 16-0, Santeliana e Cliternina 14-0. Ancora un rinvio per il Vasto Girardi, che dovrà giocare nei prossimi due mercoledì, dopodomani dovrà recuperare la gara interna con l'Isernia, rinviata già tre volte, mercoledì 18 con il Rocca Ravindola. Il Gambatesa ieri ha ospitato e superato 2-0 il Casalnuovo, il servizio. Il Gambatesa batte all'inglese il Casalnuovo, una vittoria meritata ma sofferta, quella della formazione di casa, che ha la meglio sul team pugliese grazie a un gol per tempo. Il primo realizzato da Morrone, il migliore tra i 22 in campo, e il secondo messo a segno a tempo scaduto da Federico Di Lallo. La partita non è bella, si va molto al rallentatore, anche se al terzo i locali già sfiorano il vantaggio, con Del Re che imbecca Polzeva, che entra in area, tiro, ma Pasquino para senza problemi. Più clamorosa la chance che capita al Casalnuovo al settimo, con Mancino che supera un paio di avversari, in becca a De Torres che da ottima posizione tira fuori. Il gol comunque c'è ed è dei locali ed si materializza al minuto numero 13. Palla che viene giocata da Morrone, tiro dai 20 metri, con Asquino che è sorpreso. Proteste del Casalnuovo che nell'azione del gol ricriminavano una rimessa laterale in loro favore. Al ventunesimo episodio, Damo Viola con Troisi che va giù dentro l'area. Il direttore di gara, il signor Muttillo, non concede il penalti ma non dà neanche l'ammunizione per simulazione all'attaccante pugliese. Al trentunesimo, altra chance per il Casalnuovo con un tiro dai 20 metri di Mancino senza pretese. Al quarantadresimo, il portiere ospite Asquino sbaglia il rinvio, la palla colpisce Bianco che non ne approfitta. Sul calcio d'angolo susseguente, tiro di Morrone con palla che termina di poco alta. La ripresa non si discosta molto dal primo tempo, si gioca a ritmi lenti e di azioni ce ne sono poche. Al secondo minuto, calcio d'angolo corto con Troisi che mette al centro volé di De Torres, ma il portiere Iacovelli che sostituisce l'infortunato capo bianco para senza troppi problemi. Al quinto del re si accende e si autolancia in contropiede, ma viene anticipato sul più bello dal portiere Asquino. Al nono, tocco di esterno di De Torres per Troisi, tiro a giro, ma ancora una volta Iacovelli risponde presente. Al diciannovesimo, bella azione corale della Gambadesa, la inizia Fabrizio Polzella che serve Morrone. Morrone mette al centro per Del Re che dentro l'area di rigore fa partire un tiro su cui si salva Asquino con una parata. Con i piedi sul calcio d'angolo seguente, ancora Morrone ci prova con il tiro che sfiora la traversa. Al ventottesimo, il Casanovo rimane in dieci uomini perché Palumbo protesta con il direttore di gara in seguito a un fallo subito da Luigi Dirallo, secondo giallo per il player manager e cartellino rosso. Casanovo in dieci uomini. Non accade più nulla fino al novantesimo. Poi, in questi minuti, dal novantesimo al novantatresimo, accade realmente di tutto. Al novantesimo, spatola supera Florio, viene messo giù dentro l'area di rigore e per Muttillo è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Troisi che viene ipnotizzato da Jacovelli. Il tiro dell'attaccante colpisce il palo, poi sulla ribattuta il pallone termina fuori. Al quarantasesimo, contropiede di Abiuso che spreca il 2-0 con Asquino che gli chiude la porta. Comunque, si replica poco più tardi, ancora Abiuso lanciato in contropiede. Palla per Federico Di Lallo che mette a sedere il portiere con una finta e realizza il gol del 2-0. Tre punti fondamentali per il Gambaresa, mentre per il Casanovo questa sconfitta deve far riflettere. Non è riuscito nell'impresa il Fornelli che ha perso con il Venafro in casa. È il Venafro a spuntarla sul Fornelli in un match in cui i padroni di casa, in più di un'occasione, hanno avuto la capacità di reagire e tornare in partita, facendo sì che il risultato restasse aperto fino al triplice fischio. Ma andiamo alla cronaca. All'undicesimo ci prova il Venafro con Riccitiello, deviazione e palla di poco fuori, ma al minuto successivo è commutato il risultato con Patriciello che si aggiusta la palla e firma il primo gol bianconero. Dopo pochi minuti arriva anche il raddoppio a ospite, Velardi mette in mezzo dove c'è Riccitiello e palla alle spalle di Giuliano. Quando siamo al ventottesimo ecco la reazione del Fornelli che con questo gol di De Clemente rientra in partita. Al trentunesimo i padroni di casa vanno vicini al raddoppio con Zaccaro, mai ostacolato da Galardi, e subito dopo con De Vito che apre per Zaccaro, riesce a servire Russo e palla nuovamente di poco fuori. Ma sullo scadere della prima frazione il Venafro cale il tris, angolo per i bianconeri, deviazione di Ricamato e palla in fondo al sacco. Sul vantaggio ospite si guadagnano dunque gli spogliatoi e con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa. Passano solo sei minuti e da posizione di presunto fuorigioco Patriciello si trova tu per tu con Giuliano, ed ecco che insacca per la quarta volta. Al tredicesimo annotiamo la conclusione di Riccitiello, ma il Giuliano respinge e l'uno ospite si fa di nuovo trovare pronto sul successivo tentativo di Riccitiello. Arrivati al ventottesimo rivediamo il Fornelli con Zaccaro che firma il 2 a 4. Ed insistono i padroni di casa al trentaseesimo ed apprezzare il gesto atletico di Ciarlante, ma Roncone alza sulla traversa. E al trentasettesimo arriva anche il terzo gol per il Fornelli con Ucci ed è 3 a 4. Ma non c'è più tempo e questo resta il definitivo tra Venafro e Fornelli. Resta rammatico tra i bianco-verdi che avrebbero aspirato a qualcosina in più. Dovranno ora approfittare di ogni scontro diretto per salvare la categoria, ma dall'altro lato c'era un buon Venafro che continua la corsa ai play-off. Campionato di promozione, vediamo le partite, la grafica. Frentani, Alife 1 a 2, Toro, Torremagliano rinviata, Macchia, Ripalimosani 2 a 0, Montenero, San Martino 2 a 0, rinviata, Vinchiaturo, Castelmauro, Pietra, Montecorvino, Cerce Maggiore 5 a 1, Prata, Petacciato 3 a 1, rinviata, Spinete, Campo di Pietra. In testa, sempre il Macchia, 50, Montenero 48, Pietra, Montecorvino 47, Alife 45, Campo di Pietra e Spinete 42, San Martino 31, Cerce Maggiore 30, Torremagliano e Petacciato 29, Prata 28, Vinchiaturo 27, Frentani a 26, Castelmauro 21, Toro 19, Ripalimosani 8. Il derby basso molisano è andato al Montenero ai danni del San Martino. Al De Santis di Montenero di Bisaccia la squadra di casa batte per 2 a 0 il Real San Martino dopo una partita in cui la squadra ospite pensa solo a difendersi senza provare ad attaccare e il Montenero ha bisogno di due grandi giocati da parte del proprio fantasista di Vito per scardinare la difesa degli ospiti ma andiamo con ordine al tredicesimo il Montenero chiede un rigore, cross morbido di Luongo in area di rigore per Costiga che va a terra chiede una spinta di Di Monte ma Bruscino lascia giocare. Al ventunesimo il primo tiro in porta, calcio di punizione di Vito ci prova, la palla sfiora il palo alla destra di Sassano. Al trentunesimo il Montenero riesce a bucare la difesa del San Martino, Luongo lancia lungo di Vito, errore di Charlitto che permette al numero 10 di batterlo e di beffare Sassano in uscita con uno splendido pallonetto. Rivediamo il replay del lob del numero 10 che realizza l'1 a 0. Per vedere un tiro in porta del San Martino dobbiamo aspettare il trentacinquesimo e c'è bisogno ancora di un calcio di punizione ma Abiuso lo spara altissimo e lontano dai pali difesi da Di Bello. Tutto qui il primo tempo, con le immagini montate da Mario Pece passiamo alla ripresa dove di nuovo al trecesimo minuto il Montenero chiede un'altra volta il rigore. Palma se ne va sulla sinistra, serve al centro Costiga che viene spinto alle spalle ma Bruscino lascia ancora una volta proseguire la palla, finisce tra le braccia di Sassano. Al ventitresimo minuto palla lunga Costigo, tutto solo prova a copiare il compagno ma sbaglia il pallonetto che finisce sul fondo. Sul rilancio lungo il recupero del pallone da parte di Di Benedetto che serve di video, che si gira e batte di nuovo Sassano con un altro pallonetto tra le proteste degli uomini del Real San Martino che volevano effettuare il cambio ma l'arbitro non gliel'ha concesso. Al trentatresimo minuto Minotti appena entrato per il Real San Martino prova a liberare il tiro che finisce però debole tra le braccia di Di Bello. Questa sarà l'unica conclusione della ripresa da parte del Real San Martino. Dopo cinque minuti di recupero l'arbitro, il signor Bruscino, manda le squadre negli spogliatoi. Risultato finale, Montenero batte Real San Martino 2-0. Dodicesimo risultato utile consecutivo per il Montenero che continua la sua marcia al secondo posto in classifica ad un solo punto in meno del Macchia e a un solo punto in più però dal Pietramonte Corvino. Quinta sconfitta consecutiva invece per il Real San Martino che vede volar via il treno dei playoff ora distante. 12 punti visto che 31 ne ha il San Martino, 42 lo spinete che ha anche una partita da recuperare. La telecronaca di Montenero San Martino andrà in onda oggi alle 17 su Tele Molise 2, canale 12 alle 20.30 su Tele Molise Sport, canale 112. Nella testa coda di giornata la capolista Macchia di Sernia ha superato il fanalino di coda Ripalimosani. Si gioca al Comunale di Capriati a Volturno la non aggiornata di ritorno del campionato di promozione fra Macchia e Ripalimosani. Biancocelesti che non hanno potuto disputare la gara al Comunale di Macchia di Sernia per via del forte vento che colpiva il campo sportivo. Arbitraggia Marco Meo della sezione di Sernia. Ma andiamo alla cronaca del match. Il primo squillo è De Padroni di casa con la punizione di Cifelli che però termina alta sulla traversa. Al 27esimo l'occasione capita ai piedi di Giordano che servito da Pirolli a tu per tu con l'estremo del Ripalimosani fallisce due volte il gol. Al 30esimo corner di Cifelli per la testa di De Vito che però sfiora solo il palo. Al 38esimo sempre in macchia con Castaldi che spara da fuori ma Rosso di Vita respinge. Due minuti più tardi ci prova Antinone ma Rosso di Vita smanaccia in corner. E nell'ultima occasione del primo tempo è la conclusione di De Simone ma l'estremo ospite respinge ancora una volta. E con le immagini di Giancarlo Bustelli passiamo alla ripresa. Al 15esimo il macchia è fatale Antinone per Pirolli che spara da fuori e fa secco Rosso di Vita mettendo la firma sull'1-0. L'unica occasione del Ripalimosani è al 21esimo con la conclusione di Storto ma palla centrale. Ma un minuto dopo il macchia trova il raddoppio. Giordano serve Pirolli che mette il pallone in fondo al sacco per la seconda volta e fissa il risultato sul 2-0. L'ultima occasione è per Castaldi che sull'assist di Antinone prende la traversa e di testa. E sulla ribattuta il portiere ospite para. Termina così la gara, macchia che continua a far stupire e continua ad essere la prima della classe. Ripalimosani che contava molte assenze ha bisogno di vittorie in queste ultime sei giornate rimanenti per conquistare la salvezza diretta. Vela, sono in programma questo fine settimana. La prima tappa del trofeo Optimist Italia Kinder Sport 2015. La prima tappa del trofeo Opti Sud organizzata dal Circolo della Vila Mario Cariello. Naturalmente tempo permettendo. Basket in C regionale. L'NBC ha chiuso a quota 10 la prima fase del torneo. Grazie al successo di sabato sul Chiedi 62-52. Ne abbiamo parlato con il coach. Mimmo Sabatelli, coach del Move NBC Campobasso. Vittoria bella, importante e meritata con un po' di sofferenza nel terzo quarto che ovviamente ci sta. Sì, io devo dire che oggi i ragazzi veramente hanno sfodato una grande prestazione. Abbiamo fatto primi due quarti veramente di altissimo livello tenendo molto bene in difesa. Li abbiamo lasciati a 15 punti e facendo una bella palacanestro in attacco. Devo dire che ci eravamo allenati bene e quindi alla fine siamo entrati ben concentrati sapendo anche l'importanza della partita. Nell'intervallo avevo detto ai ragazzi che sicuramente nel terzo quarto loro sarebbero rientrati e si potevano avere un po' di difficoltà non come le abbiamo avute perché poi a un certo punto l'inesperienza si vede perché abbiamo cominciato ad avere un po' paura soprattutto in fase offensiva e abbiamo mollato totalmente in difesa. Però devo dire che forse è stata anche una vittoria più bella perché poi alla fine sono rientrati fino almeno 5 e lì abbiamo cacciato l'orgoglio e il carattere. Quindi devo dire che questi ragazzi alla fine stanno crescendo, lo stanno dimostrando partita dopo partita. Oggi era una partita fondamentale e devo dire che siamo molto contenti. Finita la regular season con una vittoria che vi proietta nel miglior modo possibile una fase orologica che comincia bella, importante e difficile una fase orologica. Saranno sei partite dove noi continueremo a fare il lavoro che abbiamo fatto cercare di creare più problemi possibili agli avversari, cercare di giocare di squadra perché finalmente, ripeto, abbiamo, ma non è la prima volta, stiamo cominciando a fare della bella palacanestro i primi due quarti ne sono la prova, dobbiamo crescere a livello di esperienza ma l'età ci darà sicuramente una mano man mano. Adesso vediamo i risultati che sono maturati in prima categoria. Girone A, Mignano Carpinone 0 a 2, Conca Casale Sanniti 5 a 2, Matese Pozzilli 2 a 1, rinviata Forulum Sestolese, Carullo Colli 2 a 2, Pesche Pizzone 2 a 1, Rocca Sicura Montenero 4 a 1, ha riposato Rufre. In testa troviamo Matese 48, Sestolese 46, Casicura 40, Carpinone 39, poi Conca Casale 33. Girone B, Boiano Murgansia 3 a 0, rinviate Cerce Maggiore Volturino, Civita Nova Torella, Fossaltese Baranello 0 a 1, rinviate Macchia, Gildone, Mirabello, Carlantino 3archi, Ielsi, Riposava, Agnone. In testa Baranello 46, Ielsi 43, Civita Nova e Trearchi 37, Fossaltese 35, Boiano 32. Girone C, rinviate Colletorto Larino, Campobasso Calcio San Felice, Campomarino Chieuti 1 a 0, rinviata Molise Fiamma, Pedacciatese Porto Cannone 1 a 2, rinviate, Quartiere Nord, Guglionesi, Sant'Angelo, Acli, Riposava, Ururi. In vetta Campomarino 49, Guglionesi 48, Chieuti 44, Ururi 43, Quartiere Nord 38. Al Colalillo il Boiano 62, ospitato e superato il Murgansia. Tris di gol e di punti per il Boiano 62 che si rilancia in zona playoff ai danni del Murgansia. Si gioca lo stadio Colalillo abituato a ben altri palcoscenici con i biancorussi di Mister Perrilla che provano a raccogliere la pesante eredità dei fassi della Serie D. Entrando in cronaca il matesino Princic al 18esimo a creare il primo pericolo ma la sua punizione è smanacciata in angolo da Santucci. Poi ci prova Zuccarino ma la sua conclusione da fuori si perde di poco a lato. Al 33esimo ancora Di Camillo a cercare la via del gol ma il suo tiro finisce di poco a lato. Sul fine del primo tempo tocca a Pinelli in azione personale ma la sua conclusione viene respinta di piede da Santucci. Nella ripresa il Boiano resta subito in dieci per il doppio giallo nel giro di pochi secondi a Zuccarino e il primo per un fallo su Perugini, il secondo per proteste. Non ostende l'inferiorità numerica il Boiano trova il gol. Di Camillo cade in aree per l'arbitro Guidone di Isegni e rigore. Sul dischietto va Di Camillo che realizza per l'1-0. Il Murgansia reagisce con una punizione di Mirko Ciocca ma la palla carezza il palo e va sul fondo. Lo stesso attaccante va vicino al raddoppio un minuto dopo ma la sua incornata è troppo centrale. Al 29esimo il Boiano trova il raddoppio. Ottimo inserimento di Principi dalla sinistra, diagonale chirurgico e pallone nel sacco. Non basta ancora Di Camillo penetra in aria e azzecca il piazzato per il 3-0 che gli vale anche la doppietta personale. Il Murgansia prova a salvare la bandiera ma il tiro di Perugini si spegne a lato. Alla fine gioisce il Boiano che torna a rivedere la zona play-off mentre il Murgansia resta invischiato nelle secche della zona play-out. Vi ricordo l'appuntamento con Molise a calci questa sera alle ore 21. Parleremo con ospiti, commenti, avremo commenti, opinioni insieme a Gianni Bruno, Tapita Morgese e naturalmente vedremo la nostra attesissima Moviola. Alle ore 21, Molise a calci, sempre e naturalmente su Tele Molise. È tutto, buon pomeriggio. Grazie a tutti.